Dopo più di un mese di pausa riprende l'attività sul mio canale sportivo e dunque non possiamo che cominciare con il Racing Podcast, il format principale di questo canale. Ci saranno tre video di presentazione su tre campionati motoristici in particolare. Si parte oggi, domenica 23 febbraio, con il campionato mondiale Superbike che partirà il 29 a Phillip Island, sabato prossimo alle 19, presentazione del moto mondiale e quello successivo sempre alle 19, presentazione del campionato di Formula 1. Quindi tanta carne al fuoco per riprendere la grande attività sportiva sul mio canale che parte con il primo Racing Podcast stagionale. Ai microfoni Matthew Thorgard ancora una volta la schermata di Wikipedia inglese ci darà una mano per parlare della 33esima edizione del campionato mondiale Superbike. Come dicevo si parte il 29 di febbraio a Phillip Island, circuito che da tradizione apre appunto la categoria regina delle moto derivate dalla serie. Si chiuderà più presto rispetto al solito il 10-11 ottobre al circuito di San Juan Villicum in Argentina. Sono chioperte tante cose perché comunque in questo calendario 2020 è uscita la Thailandia, non ci saranno dunque tappe nel sud-est asiatico, rimane comunque la tappa nel continente in generale asiatico, in questo caso anche se è Medio Oriente, ovvero quella del Qatar, spostata dalla chiusura alla data della Thailandia, ovvero 14 e 15 di marzo. Esce purtroppo Laguna Seca da questo calendario, rientra la Germania che ospiterà una competizione il primo e il 2 di agosto, non si corre però più all'Euro Speedway dell'Ausitz Ring, circuito leggendario, ma si correrà alla Motorsport Arena appunto i primi di agosto. C'è stata una terza gara in Spagna che è stata aggiunta, rispetto alle abitudini ce n'erano due, ovvero Jerez e Aragon. Vedete che il 19 e 20 settembre hanno aggiunto il Montmelò Catalunya, che dunque oltre alla Formula 1 e il moto mondiale, quest'anno ospiterà il campionato mondiale Superbike. Ci sono anche confermati due appuntamenti italiani, il primo il 9 e 10 di maggio all'autodomo nazionale di Imola, e io al 10 di maggio sarò a vedere la gara della domenica dal vivo, quindi un grandissimo evento, magari ci potrei fare anche un vlog live. Secondo appuntamento stagionale, 13 e 14 di giugno a Misan Adriatico, circuito Marco Simoncelli, per un totale di 13 appuntamenti in totale. Parleremo esplicitamente della categoria Regina, la Superbike, con una parentesi velocissima sulle categorie minori, ma la Superbike, per quanto riguarda la categoria Regina, ha cambiato veramente tanto sia in calendario sia in piloti. Sono 24 i piloti che sono iscritti regolarmente alla stagione 2020 e in queste settimane di off-season la categoria sembra veramente presentarsi come la più equilibrata degli ultimi anni, perché ok, c'è Kawasaki, c'è Ducati che ha potenziato ancora una volta la V4R, la BMW pare aver ancora una volta implementato quei difetti di motore che aveva lo scorso anno, la Yamaha ha fatto grandissimi acquisti, è tornata la Honda, insomma veramente tanta carne al fuoco, andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è cambiato nel campionato Superbike, a partire dalla classifica di fatto dello scorso anno, dove la Kawasaki ufficiale si è di fatto aggiudicata il quinto titolo mondiale consecutivo con il cannibale Jonathan Ray. Il pilota nord-irlandese è ancora legittimamente il favorito per questa stagione 2020, e come fai a non mettere un favorito veramente in queste condizioni? 5 mondiali vinti per il cannibale, l'ultimo in rimonta su Alvaro Bautista che correva su Ducati, un Ray che ha voglia ancora una volta di entrare nell'Olimpo, dei più grandi di sempre in Superbike, ha già superato Carl Fogarty con il quinto mondiale vinto e chissà che non possa essere a raggiungere il sesto. Campaio di squadra di Jonathan Ray è Alex Lowe che esce da Yamaha ufficiale ed entra in Kawasaki ufficiale, Yamaha che si è veramente potenziata molto, soprattutto per quanto riguarda il parco piloti, l'avete già visto, ma noi parliamo più avanti. Parliamo della Ducati che comunque ha avuto grandissime impressioni nei test da questo signore, Scott Redding, il nuovo pilota di punta della Ducati ufficiale che ancora una volta punta su una grandissima moto, punta su un motore stratosferico e punta su un pilota che ha vinto il campionato inglese di Superbike nella scorsa stagione, Scott Redding era il MotoGP, faceva di fatto la comparsa e è andato in Superbike britannica, l'ha vinta, sempre con Ducati e si è meritato il posto nel mondiale. E anche in questo caso la Ducati schiera una moto, una coppia scusatemi, tutta britannica perché Chaz Davies è stato confermato e anche Chaz se sta bene ed è in forma con una moto fatta anche per lui, attenzione che potrà riscattarsi della grandissima stagione negativa fatta lo scorso anno. C'è una terza punta inglese per Ducati anche se è un team più semi-ufficiale che privato ovvero Leon Camier, grandissimo acquisto della casa di Borgo Panigale che dà di fatto le chiavi del team Barney che è uno dei migliori team indipendenti dopo ovviamente Puccetti al pilota inglese che quando correva con MV in Superbike ha fatto sfracelli perché la portava spesso nelle prime cinque posizioni. Con Honda l'anno scorso ha fatto quello che poteva considerato che Honda faceva abbastanza pietà e con Ducati secondo me può ancora una volta esprimere il potenziale il numero due inglese. Veramente tanta tanta roba questo grandissimo acquisto così come tanta tanta roba l'acquisto di Kawasaki da parte di Chavi 4S. Un Chavi 4S che ritorna nella Superbike che conta anche lui viene dal British Superbike la scorsa stagione ha corso con Honda, non ha fatto benissimo Puccetti dopo aver perso la Gattioglio in una maniera veramente indecorosa acquisisce comunque i diritti di un pilota non fermo ovvero lo spagnolo 4S veramente grande acquisto dello spagnolo e la battaglia tra i team indipendenti Barney e Puccetti con Camier e 4S sarà secondo me uno dei leitmotiv più interessanti di questa azione oltre ovviamente alla lotta che potrebbe coinvolgere addirittura 3 forse 4 scuderie viste le potenzialità perché comunque dico questo perché Yamaha e Honda possono essere considerate probabilmente dei papabili per il titolo più Yamaha in realtà che Honda soprattutto perché la R1 ufficiale il pata Yamaha World Superbike Team si è assicurato le prestazioni di Toprak Rasgatioglu il grande talento di questa categoria Rasgatioglu l'anno scorso ha fatto veramente sfracelli con una moto indipendente l'anno scorso correva con il team Puccetti Kawasaki era il predestinato ad andare in Kawasaki ufficiale a succedere addirittura a Jonathan Ray e invece Kawasaki di fatto lo ha appiedato durante l'autore di Suzuka Kawasaki scelse di far correre Aslam e Ray e lasciare di fatto in panchina per tutta la gara Toprak Rasgatioglu che da quel momento si è risentito e ha deciso di mandare a quel paese Kawasaki e a casarsi alla migliore offerente la migliore offerente è stata Yamaha ufficiale che ha fatto una moto da quel che si dice molto interessante anche e soprattutto per il turco che potrebbe essere non dico già un contender per il titolo ma potrebbe sicuramente dare fastidio e crescere ancora di più dopo la grandissima stagione scorsa dove di fatto ha vinto qualche gara con un team indipendente e ha fatto po' di ripetizione e la coppia Rasgatioglu-Michael-Wandermark sicuramente è una delle più interessanti e stuzzicanti da vedere in questa stagione la Yamaha può far sicuramente bene con questi due piloti Wandermark è già un esperto di questa moto Rasgatioglu è il primo anno però il potenziale ovviamente ragazzi è clamoroso soprattutto per il 54 stiamo a vedere non vedo l'ora che inizi già la gara di Phillip Island per capire un attimino che cosa avrà da riservare questa moto e sono anche curioso di vedere cosa combinano questi di Honda perché è un gigantesco punto di domanda grosso come il Giappone già l'anno scorso Honda aveva fatto qualche investimento che si è rivelato però inutile perché la Honda ha fatto di fatto la comparsa nel campionato mondiale superbike i piloti ufficiali venivano battuti addirittura dalle wildcard che venivano convocate qua e là nel corso della stagione Honda si è veramente stufata e ha deciso di investire seriamente in questa categoria non solo per fare una Fireblade CBR 1000RR nuova di pacca ma soprattutto per il mercato piloti perché nel team ufficiale c'è questo signore qui cioè Alvaro Bautista che è lo sconfitto del mondiale scorso l'ha perso di fatto lui il mondiale 2019 più che averlo vinto Jonathan Ray perché con un dominio del genere prima 11 gare e poi andare a perdere il mondiale insomma ti fa rosicare a bestia io che sono tivolo della Ducati un pochino rosicato per questa perdita del mondiale Bautista comunque vuole rilanciarsi vuole dare il contributo a Honda ufficiale che è una moto veramente incognita appunto perché gli investimenti ci sono il team è in parte da quelli della MotoGP i piloti ci sono perché anche il secondo pilota ovvero Aslan di certo è tutto fuoché è un pilota fermo è un grande veterano Honda per il team ufficiale ha scelto i grandi veterani Bautista sicuramente è il primo pilota dei due vedremo un attimino che cosa potranno combinare i giapponesi perché la Honda su alcuni test è risultata una moto incredibile sbriciolava il record della pista a go go su alcuni settori invece risultava una moto inguardabile da ultima posizione a momenti le wild kart facevano meglio è una roba veramente incredibile e indecifrabile sicuramente la comparsa di certo la farà il team clienti dell'Honda Altea con Takumi Takashi pilota giapponese che di fatto stituisce Kiyonari che anche lui è un pilota che faceva la comparsa e finiva dopo la musica è un buon acquisto Giorgi Torres che di fatto rientra dalla finestra del mondiale superbike era stato coinvolto ai lui nello scandalo del team Pedercini che ha avuto di fatto lo sponsor che è Global Service Production di fatto ritirarsi e Giorgi Torres si è ritrovato senza una moto in qualche modo ha trovato il contratto con Honda lo rivedremo il numero 81 anche in questa regione un pilota che con la moto che ha secondo me i punti li può fare e poco oltre andiamo avanti perché c'è un'altra moto molto interessante ovvero la BMW che non sappiamo ancora che novità possa aver proposto spero per la BMW un motore più performante l'anno scorso la prima parte del secondo di fatto la BMW andava ad Indica perché aveva 10 cavalli in meno rispetto ai Contenders e questo fa veramente tanto confermatissimo Tom Sykes al fiere del team tedesco che ancora una volta non rimane da qualifica Tomone nazionale veramente un grandissimo pilota e spero che possa centrare una vittoria che sarebbe veramente il coronamento di una bellissima carriera lui che ha vinto un titolo in Superbike nel 2013 ha combattuto con Jonathan Ray per quanto possibile con BMW l'anno scorso ha già fatto qualche podio se arrivasse una vittoria sarebbe veramente una roba romantica e molto bella BMW che tra l'altro prende Eugene Laverty di certo tutto fuori un pilota fermo Eugene Laverty esce da Ducati e arriva in BMW con una coppia delle isole britanniche veramente molto interessante chi sono gli altri piloti che concorreranno in questo mondiale Superbike andiamo in ordine c'è Sylvain Barrier pilota francese che di fatto fa il suo esordio completo in Superbike dopo qualche comparsa l'anno scorso con Bricks Performance un team veramente ultra privato potrebbe fare lui la comparsa in questa stagione vedremo c'è Michael Ruben Rinaldi uno dei due italiani in gara che di fatto corre per il team Go Eleven e rimane in Ducati esce da Barney va in Go Eleven Go Eleven era il team di fatto di Eugene Laverty lo scorso anno Caricasulo è il secondo italiano in gara Federico viene dalla Super Sport 600 dove ha perso il titolo ai danni di Randy Krovenacker correva con la Yamaha del team Bardalei Van Bross ha fatto il salto di categoria del team GRT che di fatto è il team satellite della Yamaha ufficiale non si chiederà moltissimo a Caricasulo in questa stagione io spero punti con costanza magari qualche exploit nei primi 10 sicuro e magari chissà anche primi 5 con un paio di squadra di Caricasulo è Garrett Gerloff che è un pilota americano ha vinto la Super Sport americana lo scorso anno e appunto è sponsorizzato da Moto America quindi la federazione statunitense della Superbike e lo vediamo in azione con il numero 31 a fare appunto l'esordio assoluto in Superbike a mantenere una tradizione di piloti americani in questa categoria gli altri piloti andiamo avanti Leandro Mercado va in Ducati team Motocorsa Racing che aveva fatto qualche wildcar la scorsa stagione esce dal team Orlac Racing Orlac Racing che prende Maximilian Scheib pilota cileno che dunque espande ancora una volta il continente sudamericano in Superbike Yamaha Tenkate conferma Loris Buz dopo la parziale stagione dello scorso anno iniziata in ritardo Buz riesce a trovare una sella a tempo pieno e comunque confermato dal team Tenkate quindi olandese ultimo pilota è appunto Sandro Cortese che è stato tesserato tra virgolette da Pedercini che appunto aveva la vicenda del sponsor che si è ritirato come vi ho detto prima in qualche modo Pedercini riuscì a trovare i fondi per la stagione 2020 e ha di fatto scaricato Salvadori e Jordi Torres al posto di Sandro Cortese Sandro Cortese che dunque tornerà a tempo pieno in Superbike dopo la prima stagione dello scorso anno altalenante questi sono dunque i piloti che correranno in questa stagione del mondiale Superbike in questa stagione vedo ovviamente Ray come primo favorito attenzione però a Ducati che sembra secondo me la contender più credibile un grosso punto di domanda ce l'ho su Honda che se trova la stagione perfetta può dire ancora la sua non per vincere il titolo al primo anno ma per me per fare qualche podio speriamo per Honda la Yamaha con Razgatoglu può essere forse il terzo incomodo vedremo sarà un campionato veramente interessante io vedo più una lotta tra Jonathan Ray e le Ducati che sono stati storicamente gli avversari in questi anni e potrebbero ancora riproporsi il duello Kawasaki Borgo Panigale staremo a vedere basta aspettare una settimana 29 di febbraio a Phillip Island velocemente parliamo delle altre categorie questa è la Super Sport Super Sport che correrà come vedete anche in questo caso 13 gare soltanto una gara alla domenica pomeriggio mentre le gare della Super Bike sono state confermate in tre unità quindi Super Sport Race insieme alle due gare lunghe il campione in carica Randy Krummenacher rimane in Super Sport ha firmato con MV Agusta moto italiana che dunque schiera addirittura tre piloti e l'unica scuderia a fare questo insieme ai confermati Raffaele De Rosa e Federico Fuligni il contender di questa categoria chi potrebbero essere sicuramente Jules Clusel del team GMT 94 Yamaha che l'anno scorso è arrivato nelle prime tre posizioni dello scorso campionato quindi è un pilota sicuramente specialista di questa categoria e può dare sicuramente ancora una volta la sua in questa stagione il team campione in carica Bardalevan Bros schiera Andrea Locatelli una moto soltanto per un pilota di punta Locatelli è chiamato a difendere il titolo per la squadra Ravennate sarà difficile secondo me però il pilota ha una grande esperienza delle moto di cilindrata intermedia pilota moto 2 Andrea Locatelli vedremo come se la caverà in questa stagione chi può essere un contender serio è Lucas Maia anche lui grande esperto di questa categoria la Super Sport 600 confermato con Puccetti il pilota francese si è svegliato la scorsa stagione però un po' tardi a metà quest'anno serve il contributo completo del pilota transalpino per provare a vincere il titolo che aveva già vinto nel 2017 ai danni del re Kenan Sofoglu gli altri piloti Steven Odendal è confermato anzi entra in Super Sport 600 con Tencate che schiera una moto anche in Super Sport oltre a Logis Buzz in categoria superiore il compagno di squadra di Maia è Philippe Huttel altro ex Moto2 così come Steven Odendal c'è l'esorto assoluto per Galan Gendra Pratama pilota indonesiano che viene dalla 300 pilota molto irruento l'indonesiano insieme a Dandy Verdoia altro pilota che viene dalla 300 il compagno di squadra di Clusel è Corentin Perolari pilota francese anche lui esperto di questa categoria attenzione a Perolari perché potrebbe crescere ancora una volta in questa stagione il team Caglio Racing conferma Isaac Vignales cugino di Maverick e ingaggia Hannes Sommer pilota Estone che ha fatto quello che poteva l'anno scorso con Honda e quest'anno cambia scuderia e passa a Yamaha Sommer ha vinto un europeo di Super Sport 600 nel 2017 a proposito di Honda ci sono soltanto due moto in schieramento una moto la ottiene Patrick Hubelsberger che corre per il team Dynamort e quindi team tedesco insieme a Icario Kubo una delle sorprese della scorsa stagione e Kubo è quello che batteva sistematicamente Maia l'anno scorso nel team di Puccetti quindi attenzione al pilota giapponese se cresce anche una volta il team TOT schiera un pilota di casa il team TOT è il team ungherese schiera Peter Sebastian insieme a Loris Cresson pilota belga confermato anche in questa stagione per la Super Sport 600 Janonku entra in Super Sport 600 Janonku è il pilota turco che ha vinto quella grana exploit a Valencia 2018 in Moto3 l'anno scorso in Moto3 sempre ha fatto schifo e rientra in Super Sport 600 quindi con la categoria superiore non andando in Moto2 tra l'altro Janonku corre per il Turkish Racing Team che è una squadra sponsorizzata direttamente dalla federazione turca completano il novelo dei piloti della Super Sport 600 Christopher Bergman pilota svedese che rientra in Super Sport è un pilota trentenne Jaime Van Sikelerus pilota orandese anche lui confermato c'è il campione di categoria della Super Sport 300 ovvero Manuel González che corre con il team Parking Go Kawasaki lo stesso che ha vinto il titolo lo scorso anno e chiude Danny Webb pilota britannico inglese nello specifico grande esperto i 125 un pilota che corre da una vita lo troviamo in Super Sport 600 ci sono anche i ragazzi dell'europeo il primo è Tom Toparis pilota australiano che corre con il team Barrow che è l'unico dell'europeo che chieschiera due moto distinte il secondo pilota però come vedete deve essere ancora annunciato gli altri contenders sono Alejandro Luiz scusatemi Axel Bassani pilota italiano e Xavier Navin confermato il francese in Super Sport 600 europeo quindi sono questi piloti 5 che correranno soltanto le gare europee quindi 10 su 13 al volo parliamo della Super Sport 300 la categoria più piccola in assoluto ci sono 10 gare per la categoria leggera a differenza delle 13 di Super Bike e Super Sport come vedete c'è una fracca di piloti sono 50 50 i piloti iscritti a questa competizione chi è da tenere d'occhio sicuramente Anna Carrasco pilota donna che ha vinto il titolo già in questa categoria nel 2018 e ha vinto già una gara l'anno scorso quando in realtà ha vinto Manuel Gonzalez Scott De Roo è un grande veterano di questa categoria e sicuramente considerato che corre per Kawasaki è un pilota a tenere veramente in considerazione chissà se tra gli italiani può diciamo saltar fuori un campione diciamo che c'è qualche speranza possibilmente in Alfonso Coppola che è un pilota che ha quasi vinto il titolo nel 2017 perdendolo in realtà di un punto solo ai danni di Mark Garcia ci sono tantissimi italiani che correranno in questa competizione a partire da Gabriele Mastroluca Leonardo Carnevali andiamo sempre giù con Thomas Brianti su Kawasaki Coppola abbiamo già detto Sabatucci che anche lui è un esperto di questa categoria Ieraci è confermato nel team GB Project che schiera tre italiani su tre moto altro team totalmente italiano Emanuele Vocino e Francesco Prioli correreanno per gradare a corse Jarno Joverno correrà per Maranga Racing Filippo Rovelli confermato nel team Parking Go che è il team campione di categoria c'è Tenkate anche in questa categoria e schiera Clem van Stralen che è un pilota che fa il salto indietro dalla 600 passa alla 300 c'è il cecchino Livio Loy che vinse una gara per sbaglio sul bagnato Indianapolis 2014 se non erro quando era poco più che un bambino il cecchino ritorna e ci dà una gioia compagno di squadra un italiano Alessandro Zanca per il team Tour Racing l'ultimo italiano iscritto è Kim Aloisi col team Pro GP Racing come vedete ci sono soltanto tre case che sono Kawasaki Yamaha e KTM KTM però schiera soltanto quattro moto con il team Freudenberg lo Junior Team l'abbiamo visto prima schiera Jan Lajenig e Oliver König il primo tedesco il secondo cieco e il team ufficiale schiera due tedeschi Christian Stang che anche lui fa il salto inietro dalla 600 alla 300 insieme a Maximilian Kappler anche lui pilota teutonico al volo sottolineo tre brasiliani nella stessa competizione che nella moto leggera penso non siano mai visti c'è Ton Kawakami che corre per MS Racing di Yamaha e poi abbiamo un team letteralmente sponsorizzato dalla federazione brasiliana con Meikon Kawakami fratello di Ton e Felipe McCann altro pilota brasiliano e quindi anche la categoria leggera oltre ad espandersi in Asia con piloti indonesiani negli scorsi anni e anche asiatici si espande nella Sud America con addirittura un team dedicato per il Brasile come vedete vi dicevo la Super Sport 300 correrà 10 gare si inizierà il 29 di marzo a Erezza la frontera ma quello che conta è la vostra opinione sul campionato mondiale Superbike e anche sulla 600 i piloti secondo me sono pronti e carichi per dare un bel campionato soprattutto in Superbike fate sapere cosa ne pensate di chi vincerà dunque il titolo secondo voi in Superbike aspetto con ansia le vostre opinioni e spero che il primo Racing Podcast della stagione vi sia piaciuto il saluto da parte di Matthew Talkard e ci vediamo a un prossimo video